Ciao a tutti, sono Massimo Marchiori, sono qui a spiegarvi un po' meglio che cos'è Volunia. Volunia, ve lo riscrivo qui, vi ricordo il sito è volunia.com, è un nuovo motore di ricerca innovativo, è il frutto di un'idea che ho avuto qualche anno fa, talmente bella che ora siamo qui a proporvela perché è stata realizzata. È un motore di ricerca ma non il classico motore di ricerca, non è come un Google migliorato del 10%, vi dà una nuova prospettiva, una prospettiva totalmente diversa da quello che i motori di ricerca normali vi hanno finora dato. È un progetto ambizioso, sarà lanciato in ambito mondiale, è localizzato in 12 lingue, ha i contenuti di tutto il mondo, vi invito per cui a cominciare a provarlo, andate nel sito www.volunia.com, registratevi e potete essere tra i primi a provare in anteprima questo nuovo motore di ricerca per una visione diversa del web. Grazie.